Siamo al Parco Playground di Via Modigliani a Monteruscello con Teresa Cannavacciolo, presidente dell'associazione Giovani Puteoli. Teresa, voi da dicembre avete in affido le aree verdi di questo parco. Con tanta buona volontà cercate di tenere in ordine anche le altre attrezzature, ma è una lotta impari. Più di una volta ci hanno distrutto il lavoro che avevamo fatto, scaricando camion di risulta, abbiamo trovato ferro, abbiamo trovato di tutto. Ma quello che venerdì ci ha sconvolto è trovare addirittura una giostra grande, un percorso scomparso, tagliato da terra, sradicato dai pali. Quindi sottratto nella notte probabilmente senza che nessuno si rendesse conto di cosa stava accadendo. Sì, perché noi veniamo a pulire di solito ogni dieci giorni. Fino adesso eravamo riusciti a salvare dei cespuchi di melograno, i cespuchi stavano crescendo, ce li hanno buttati tutti a terra. Le aree verdi sono grandi, da dicembre ad adesso abbiamo fatto tanto perché c'erano cespugli grandissimi, c'erano rovi, spine, ma poi continuano continuamente a buttarci dentro spazzatura e tutto il resto. Questo è sintomo di una mancanza di controlli, ma soprattutto di un forte senso di inciviltà da parte dei cittadini che danneggiano delle aree che sono di proprietà pubblica, di tutti. E infatti abbiamo deciso proprio per questo che il 15 giugno per sensibilizzare la cittadinanza abbiamo comunicato all'assessore di competenza e al sindaco che faremo una giornata di pulizia dove invitiamo tutti i cittadini e molte associazioni ci hanno detto che verranno a darci una mano proprio per sensibilizzare tutti. E per un'altra cosa perché noi vorremmo avere il permesso di cercare uno sponsor, qualcuno che ripristini queste giostre che come vedete dal filmato sono molto frequentate, di sabato e di domenica molti bimbi vengono in questo parco. Noi abbiamo in adozione solo le aree verdi, le giostre non sono di nostra competenza ma di solito noi le puliamo. Noi per il 15 vorremmo il permesso anche nel piccolo di almeno di fare un pochino di sistemazione anche nelle giostre. Grazie a tutti.